I disagi in Cilento continuano lo scorso martedì. Il deragliamento di un treno mercio alla stazione di Centola Palinuro Marina di Camerota ha praticamente paralizzato il traffico ferroviario con ritardi e quindi cancellazione di treni. Ora si corre in un periodo cruciale come quello estivo per riuscire a ripristinare servizi che se tagliate ancora per giorni rischiano di compromettere l'estate della provincia sud di Salerno oltre che causare disagi pesantissimi anche per i residenti. Un fatto che ha messo a nudo una situazione davvero critica ma conosciuta da tempo ha detto il presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito un sistema fragile che sta mettendo in ginocchio le attività turistiche del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. Un fatto che quindi accende più in generale i riflettori sulle criticità legate alle stazioni per lunghi periodi dell'anno fatiscenti e comunque senza servizi minimi di accoglienza per i turisti ancora denunciato Esposito. Intanto l'impegno è quello di risolvere la situazione al massimo entro dieci giorni. Si spera di riuscire anche prima in una settimana come sottolineato dal sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante. Ho sentito fino a ieri sera i vertici di RFI. Devo dire che si sono adoperati sin da subito per ripristinare quanto meno fondamentalmente una linea. Siamo convinti che entro la prossima settimana al massimo una decina di giorni saremo in grado di restituire alla cittadinanza la doppia linea in quell'area. Questo conferma di quanto l'attenzione per alcune aree, per esempio il Cilento, le aree interne sia fondamentale, gli spostamenti non sono mai semplici, è tutto molto complicato. È chiaro che uno degli obiettivi del Ministero delle Infrastrutture, ma in generale del governo italiano è quello di ridurre il gap fra le aree interne e le aree costiere ed è uno fondamentalmente degli obiettivi che mettiamo in agenda anche in vista delle elezioni 2025.